Il giurista deve interrogarsi sulle regole che disciplinano il tragitto degli alimenti dal campo alla tavola, quindi non soltanto le regole del produrre ma anche quelle legate alle fasi di trasporto, di trasformazione all'interno di un mercato in cui gioca un ruolo fondamentale il consumatore che oggi ha dei diritti nuovi, sono legati all'informazione, alla trasparenza, alla comunicazione e questo richiede un esercizio del legislatore in Italia e in Europa, quindi fonti plurali difficili da collegare e quindi costruire un percorso per capire la complessità di un'economia, di un mercato perché il diritto è un sistema di regole che ci riguarda quando facciamo la spesa tutti i giorni. Tutto quello che riguarda l'agricoltura e il cibo trova gli studiosi italiani in tutti i campi, appunto dal diritto alla nutrizione, in una posizione di leadership in Europa per la capacità di approfondimento e anche l'interesse a sostenere questo settore. Il Consiglio già da diversi anni segue il filone della promozione culturale della lotta contro la contraffazione e soprattutto per la sicurezza alimentare. L'abbiamo fatto con risoluzioni, abbiamo fatto con la legge sulla cultura della legalità, l'abbiamo fatto poi anche con convegni, con eventi. L'abbiamo fatto portando qui a Venezia nell'ambito del semestre italiano questa tre giorni, abbiamo chiamato settimana della sicurezza alimentare, in cui si sono confrontate le esperienze dei 28 stati membri, più anche alcuni stati osservatori che sono quelli che hanno chiesto di entrare nell'Unione Europea e proprio qui a Venezia viene fatto il punto della situazione europea in questo momento. In questo momento, sotto presidenza italiana, noi stiamo spingendo gli altri paesi a rinnovare quella che è l'attuale legislazione per rafforzare i controlli sui prodotti, sugli animali, su tutte le merci che comunque entrano nella catena alimentare. Questo perché? Per combattere quelle che sono le frodi, quelle che sono i rischi per il consumatore e per far sì che ci sia una maggiore informazione del consumatore. Grazie. 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 Grazie.